Ehi, apri! Parola d'ordine? Quale parola d'ordine? Stai scherzando, vero? La parola d'ordine per non aprire la porta ai Brut. Per caso ti sembro un Brut? Potresti diventare un ostaggio dei Brut. Se fossi ostaggio dei Brut e conoscessi la parola d'ordine, mi costringerebbero a dirgliela in modo da potertela dire, così tu spalancheresti la porta. E allora scordati che apra questa porta. Servono munizioni. Beh, forse potresti chiedere ai tuoi amichetti Brut. Grazie a tutti. Sfazza via quei bastardi dal poste! Sfazza via quei bastardi dal poste! Sfazza via! Sfazza via! Sfazza via! I medical non partiranno se l'hunger non è sicuro! Sfazza via! 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 Sì, va al centro operativo, subito! Brut, colpiscono duro! Ehi, sentito? Sì, e non mi è piaciuto. Attenzione, mi inizi a segnalarti fuori dalla casera. La caserba è sotto attacco. Tutte le squadre operative rispondano. Mi serve un rapporto dalla casera, subito! Signore, di qua! Occhio, escono dai condotti d'aereazione! Inceneriamoli, inceneriamoli! Sergente, cosa sono quelle cose? Droni! Uno sciame! Facciamoli a pezzi! Grafiche brevi e mirate! Questa è sparta! Facciamoli! Facciamoli! Volterà! Mangia questo! Ottimo lavoro! Crepa! 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 Sì! 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 Piazzando un detonatore a tempo potrebbe saltar subito. Forse è meglio che lo sping. Chief! L'abbiamo collegato. Appena l'evacuazione sarà completata, attiva il detonatore. D'accordo. Buona fortuna a tutti. Ci vediamo sull'ultimo Pelican. Seguimi, Chief. Plutano ha preso la caserma. Ci sono dei Marine là dentro. Quelle scimmie sono spietate, Chief. Sappiamo che cosa fanno i prigionieri. Sì! Vai alla caserma! Salva quegli uomini! E sverdiamoci! Troviamoci! Iniziamo a sparare! Sì! Ti prendi cura per la mia. Sì! Ti prendi cura per la mia! Sì! Sì! Cosa? Sì! 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 Attenzione! Raduniamoci! Siamo! Grazie a tutti.